Maddalena Casulana è una virtuosa di liuto, è una cantante, è un'insegnante ed è una compositrice della seconda metà del Cinquecento. Uscite a dolore poi che vi piace, nella tattia di sicco tutto sia il cuore pare, Abbiamo ascoltato la sua musica, era l'inizio la prima parte di un madrigale dal titolo Morire non può al mio cuore, eseguito splendidamente da The Hilliard Ensemble, che è stato un quartetto britannico proprio specializzato nella musica antica. La cosa fondamentale da dire subito è che è stata Maddalena Casulana la prima donna a dare alle stampe opere musicali. Siamo nella seconda metà del 1500. È un'informazione di peso. Riuscire a dare a pubblicare la propria musica essendo una donna non deve essere stata una cosa semplice, sicuramente. Allora qui è doveroso fare una piccola parentesi, non ci dilunghiamo troppo, sul discorso della musica al femminile. La musica è indiscutibilmente ancora un campo principalmente maschile. Quando dico facciamo una breve parentesi davvero, non stiamo a fare valutazioni di merito o discorsi troppo lunghi, ognuno ha la sua visione sicuramente, però credo che possa bastare solo questa riflessione per renderci conto che non è ancora una strada, un campo alla pari. Insomma, la strada per le donne è ancora un po' lunghetta da percorre. E l'unica riflessione che vorrei fare con voi è questa. Pensiamo oggi. Se noi oggi vediamo un'esecutrice, che sia voce o strumento, quindi esegue musica di altri, non notiamo che è una donna. Non è la prima cosa che notiamo. Potremmo notare la sua bravura, il suo aspetto, il suo abbigliamento, ma non è la prima cosa che notiamo che è una donna. E questo è proprio perché questo ruolo nel campo musicale è sempre stato un ruolo ben accetto. Le donne come esecutrici fin dai tempi antichi erano assolutamente ben tollerate, anzi era una cosa che si riteneva buona norma nel tempo, sapete poi anche, se pensate insomma come riferimento all'Ottocento, la borghesia, era anche un segno di buona educazione per le fanciulle, saper suonare, per poter intrattenere gli ospiti. Quindi era proprio un segno positivo e lo abbiamo ovviamente portato avanti nel tempo. Ecco perché oggi non è la prima cosa che ci salta agli occhi. Ma oggi se pensiamo a una donna compositrice, specialmente in ambito classico o alla direzione ad esempio di un'orchestra, se vediamo una donna alla direzione di un'orchestra, ecco che la prima cosa che notiamo, tutti sia uomini che donne, è che è una donna. Poi magari valutiamo bravura, aspetto, eccetera, ma la prima cosa che notiamo è quella. E credo che questo sia proprio un segnale che ci fa capire che ancora per noi non è una cosa così consueta, normale, vedere una donna alla direzione di un'orchestra o come compositrice. Perché questi due ruoli non sono stati nel tempo così consueti, usuali e sono sempre stati, specialmente nel tempo passato, piuttosto ostacolati. Se noi vediamo oggi questo atteggiamento pensiamo a quello che può aver incontrato, quali ostacoli può aver incontrato Maddalena Casulana. Da un punto di vista biografico di informazioni su questa musicista, forse le cose che più ricorrono sono, può darsi probabilmente, non abbiamo tante informazioni certe. Sulla sua biografia sappiamo probabilmente che è nata intorno al 1541. La provenienza dovrebbe essere Casoledelsa vicino a Siena, ecco da qui il nome Casulana. Altre informazioni biografiche ne abbiamo veramente pochissime. Forse si è sposata perché a un certo punto in fianco al suo nome vediamo associato il cognome Mezzari, De Mezzari, potrebbe essere il nome del marito, ma qui siamo sempre nel forse probabile, non siamo sicuri, che anche l'anno della morte è incerto. Dal 1591 non abbiamo più sue notizie, non troviamo più informazioni, quindi si presume che sia morta intorno al 1590. Anche dell'aspetto. Non abbiamo dati certi, sappiamo da alcuni scritti che era considerata una donna di bell'aspetto, di gradevole presenza, però non possiamo vederlo, non abbiamo prove, anche se sappiamo che è esistito un suo ritratto, però è andato disperso, e quindi non abbiamo prove del suo aspetto. Le informazioni che abbiamo, quelle che ci permettono di parlare di lei e conoscerla, sono ovviamente la sua musica, perché ha dato alle stampe e quindi le abbiamo, alcune sue composizioni. E poi le altre informazioni le abbiamo da dediche, scritti, commenti che sono stati fatti sia dalla stessa Casulana che da altri compositori, piuttosto che editori, scrittori, eccetera, dell'epoca. Quindi da queste informazioni, da questi commenti, possiamo anche mettere in evidenza l'aspetto che dicevamo all'inizio, cioè quali difficoltà può aver incontrato Maddalena Casulana nel campo della composizione, al femminile ovviamente. Vi faccio vedere adesso un commento che ha lasciato un musicista dell'epoca a seguito di una esibizione dove era presente anche Maddalena Casulana. Nella prima parte di questo suo commento lui ne parla molto bene, ma sta descrivendo Maddalena Casulana come virtuosa di liuto e cantante e ne fa una descrizione e un commento assolutamente positivi. Adesso, guardate, ve lo faccio proprio vedere, scritto da questo Nicolò Tagliaferro, il momento poi però in cui lui parla di lei come compositrice, ecco che la riprovazione gli viene fuori, insomma, non ce la fa. Se leggete che è molto, ma molto, molto chiaro, lui dice proprio che, che ella si dilettò molto nella composizione. Anzi, più di quello che la professione donnesca convinci. Ed è bellissima come definizione. Per di più, non fa una valutazione sulla musica di Maddalena Casulana. Non sta dicendo se era positiva o negativa, sta proprio facendo la valutazione del ruolo. Non entra neanche nel merito della musica di Maddalena Casulana. Dice solo, insomma, no, lei si dilettò troppo, non è un mestiere adatto. Lei stessa ha fatto una dedica. Stavo pensando, siamo partiti dalla sua musica, abbiamo ascoltato la sua musica e quel madrigale, la prima parte del Madrigale a quattro voci che abbiamo ascoltato fa parte del primo libro di Madrigale a quattro voci dedicato dalla Casulana a Isabella De Medici, che era una sua sostenitrice, sua mecenate, tra parentesi, musicista, compositrice anche lei. In questa dedica, oltre a parlare in maniera estremamente positiva della sua mecenate, e qui vi metto già in visione lo scritto, anche qui avete in alto la dedica iniziale, quindi all'illustrissima, eccetera, 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 eccetera. Nella dedica fa una rivendicazione che è estremamente ben chiara, pur essendo molto moderata. Se vedete, pur con la terminologia dell'epoca, lei proprio dice, vuole far sapere quanto sia inutile, insomma, quanto sia vano l'errore che fanno gli uomini credendosi gli unici padroni degli altidoni dell'intelletto, senza medesimamente crederli comuni alle donne. Siamo nella seconda metà del Cinquecento. Allora, qui abbiamo visto una visione di un musicista, uomo che ovviamente non vede di buon occhio la professione al femminile, e lei stessa, Maddalena Casulana, che dichiara pubblicamente la sua fatica a una donna, ma comunque lo dichiara pubblicamente. Il fatto che però Maddalena Casulana abbia dato alle stampe ci dà l'idea chiara che aveva successo. Non è una cosa da poco per l'epoca, e infatti abbiamo anche informazioni di grandi sostenitori di Maddalena Casulana, tra questi fiordi musicisti. Ad esempio Orlando di Lasso, che è stato un famosissimo compositore dell'epoca, che chiederà a Maddalena Casulana un mottetto da eseguire per il matrimonio di Guglielmo V di Baviera con Renata di Lorena, credo. Questa era sicuramente una occasione importante, era un momento di dare visibilità maggiore a una compositrice, e questo dà anche l'indicazione che Orlando di Lasso la stimava come compositrice. Allora, adesso facciamo un altro ascolto. Andiamo a sentire ancora un po' di musica di Maddalena Casulana. Andiamo a prendere un altro madrigale. Qui l'unica cosa, magari il madrigale, vi dico solo due cose, visto che ne abbiamo sentito prima uno, e adesso risentiamo un altro frammento di un altro madrigale. È una composizione tipica di questo periodo, è una composizione polifonica profana. Vi ricordo che polifonica vuol dire più voci, più melodie sovrapposte. Nel caso che abbiamo sentito prima e che sentiamo ancora adesso è a quattro voci, quindi quattro melodie sovrapposte. Profano vuol dire che non ha argomento religioso. Forse una caratteristica ancora da mettere in evidenza per il madrigale proprio riguardo al testo. Sono testi importanti, presi da poeti di notevole importanza. Per darvi un'idea della caratura dei nomi, parliamo di Petrarca, parliamo di Tasso, Guarini, Ariosto, sono nomi di un certo peso notevolmente. La versione che vi faccio sentire adesso di questo madrigale a quattro voci dal titolo o notte o cielo o mar è una versione vocale strumentale. Era una prassi anche dell'epoca sostituire le voci gravi con uno strumento e spesso e volentieri era il liuto, strumento a corde pizzicate. Vi faccio vedere il pezzo dello spartito che noi ascolteremo, così potete anche tenere sotto controllo quelle che sono le esecuzioni. Voi sentirete la prima melodia fidata alla voce e le altre tre inglovate nell'esecuzione strumentale. La versione quindi che ascoltate è dell'ensemble Laus Concentus che farà questa versione vocale strumentale di O Notte, O Cielo, O Mar. Altro pezzo. La musica di Maddalena Casulana. Non è un nome noto ovviamente, abbiamo parlato di una musicista, di una compositrice difficilmente conosciuta e se riflettiamo abbiamo pochi nomi al femminile nel nostro bagaglio di conoscenza, specialmente nella storia della musica. Ecco, d'ora in poi possiamo inserire e ricordare anche lei, Maddalena Casulana, virtuosa di liuto, cantante, insegnante e compositrice della seconda metà del Cinquecento. Alla prossima.